Io ho presentato una mozione 15 giorni fa, firmata da 100 deputati di tutti i gruppi tranne Lega e Movimento 5 Stelle, che impegna la Camera, non impegna il Governo, affinché si avvii rapidamente un dibattito nelle sedi naturali della Commissione Affari Costituzionali sulla riforma della legge elettorale provvisoria, cioè superare il Porcellum e ritornare alla legge precedente.